La chiusura delle frontiere in corso e l'assenza di date precise per una riapertura delle stesse limita in modo drammatico la nostra situazione economica che vive dell'interscambio di frontiera. Così il sindaco di Cannobio Gian Maria Minazzi ha scritto al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e per conoscenza al prefetto Sidoti per chiedere la riapertura delle frontiere agli svizzeri ticinesi di confine per lo shopping. Richiesta avanzata nei giorni scorsi anche dalla sezione locale di confcommercio con le stesse motivazioni. Il primo cittadino cannobiese si fa interprete come un anno fa delle richieste delle attività turistiche e commerciali della sua cittadina. Primo paese che gli stranieri incontrano provenendo dalla Svizzera e della difficile situazione creatasi a causa delle misure restrittive conseguenti alla pandemia. Minazzi spiega che la graduale riapertura per favorire la ripresa economica e sociale decisa dal governo può costituire un provvedimento incisivo anche per i comuni di confine come Cannobio solo se accompagnata dalla volontà di riaprire le frontiere e permettere in parte il flusso commerciale. Minazzi chiede alla regione di farsi carico del problema sollecitando il governo centrale per consentire l'ingresso nel territorio nazionale nella fascia territoriale di 20 km dal confine a coloro che risiedono nella confederazione senza necessità di effettuare tampone molecolare. Un provvedimento analogo è peraltro già previsto per i lavoratori frontalieri, precisa il sindaco e conclude soltanto in questo modo possiamo sperare di ridare fiato alla nostra economia. L'appello intanto è stato raccolto dal senatore leghista Enrico Montani sia all'apertura delle frontiere agli svizzeri ticinesi di confine per consentire al commercio di ripartire, dice e promette un suo interessamento sulla vicenda.